Basta poco a Gambatesa per rinnovare quello spirito d'appartenenza ad una delle culture più antiche del Molise e soprattutto per rinvigorire lo spirito del Capodanno con le tradizionali Maitunat. Tre giorni di festeggiamenti per accogliere il nuovo anno che iniziano il 30 dicembre e che si concludono come da tradizione la sera del primo gennaio. Grande evento quello che ha dato il via alla 319 edizione. I piccoli allievi della scuola delle Maitunat partendo da Piazza Riccardo sono arrivati in Piazza Municipio per un concerto che ha coinvolto tutta la comunità. I bambini delle scuole elementari di tutta Gambatesa che si sono uniti per cantare i Maitunat e far vedere come sono bravi a costruire rime, improvvisare rime e lo fanno in un evento, cioè quello del 30 dicembre, cioè prima della notte di Capodanno, perché è un evento dedicato totalmente a loro ed è bello perché poi hanno uno spazio unico per loro e quindi tutta la popolazione può ascoltare la loro bravura e il loro estro perché sono bambini che hanno iniziato giocando ma adesso vogliono il microfono, vogliono cantare, vogliono fare loro le rime, non vogliono suggerimenti, hanno la passione e anche sotto la pioggia amano la tradizione. La tradizione delle Maitunat che si riallaccia ad un passato antico rappresenta uno dei fiori all'occhiello della cultura molisana. È una delle tradizioni più antiche, più belle e più sentite di Gambatesa, una manifestazione che è in grado di coinvolgere generazioni diverse, che abbraccia tutte le generazioni, partecipano i piccoli, partecipano gli anziani, veramente intere famiglie. Una festa, quella del Capodanno Gambatesano che dopo l'esibizione dei piccoli cantori dà appuntamento alla lunga notte di San Silvestro. Vi aspettiamo qui a mezzanotte per festeggiare insieme a noi e vivere insieme a noi il Capodanno con le squadre nelle case dei Gambatesani ed un appuntamento anche quello per il primo gennaio per vedere le squadre sul palco. Sono tante squadre, tantissimi musicisti e tantissimi cantori. I ritmi delle My2Nut che proseguiranno ad oltranza per tutta la notte fino alla colazione del primo gennaio insieme ai camperisti e di nuovo nel pomeriggio saranno sul palco termineranno con le premiazioni quando sarà già sera. I ritmi del primo gennaio insieme aiutati. I ritmi del primo gennaio insieme aiutati.